FIENZE SMART Rallentamenti per un veicolo fermo in avaria tra Capanno e Rialto Pascio in direzione Firenze. Spostandoci sulla FIPILI, code per viabilità esterna che non riceve tra Scandici e la Strassigna in direzione Mare. Per lo stesso motivo ci sono code in uscita alla Strassigna provenendo da Firenze. Rallentamenti tra Scandici e Firenze e Scandici verso Firenze. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!